600 bambini ai giardini estensi per conoscere i prodotti sani e i frutti di una terra che va protetta e valorizzata. È importante far conoscere ai più giovani questo settore molto importante per il paese e anche per questo territorio. A organizzare l'evento col diretti in prima linea in difesa di agricoltura, allevamento, tipicità. Sappiamo tutti che una buona educazione alimentare fa bene anche alla salute e quindi noi continuiamo a spingere perché comunque la dieta mediterranea è riconosciuta da tutti la migliore e quindi il miglior modo per farlo è iniziare dai bambini. Mangiare bene significa crescere sani e in prospettiva pesare meno su un sistema sanitario alle prese con l'impennata di malattie cardiovascolari, croniche e l'obesità. Educare i bambini a un'alimentazione sana è fondamentale ed è importante ma soprattutto è importante anche far conoscere l'eccellenza del nostro territorio, il cibo sano che abbiamo a disposizione grazie anche al sacrificio e all'impegno dei nostri agricoltori della provincia.